Ciao ragazzi, benvenuti, Champions Kicks 2019 continua, oggi a Sneakers Bar abbiamo un Para un po' incupito e un Marco con un sorriso smagliante e una nuova sfida qui per noi, abbiamo due classici di Jordan, classici tra i più amati in assoluto, che si affronteranno e andranno, mi sta guardando male Para? Però gli piacciono queste, stai guardando, stai già votando. Abbiamo Jordan 3, qui in colorway Black Cement, che andranno ad affrontare le Jordan 1, qui in colorazione Bread, eccole qua, ci scusiamo ma Marco non sa lanciare, è anche chiuso un po' in uno spazio stress, esatto, comunque, Para cosa ti piace qua? Jordan 1, Marco? Eh, ovviamente, Jordan 3. Bene, andiamo avanti, andiamo a vedere nei dettagli, vi ricordiamo un po' come sono fatte queste scarpe e poi votazione, aspetta solo a voi ragazzi, via! Bam ragazzi, Jordan 1, eccola qua, classico modello, veramente iconico, qui l'abbiamo in colorazione ancora più classica, ancora più iconica, che è la Bread, il top è interamente in pelle, pelle molto morbida sull'autobox e sullo swoosh, e qua sul retro, e pelle un po' più resistente, un po' più stuff, così si dice, un po' più, un po' più durina, qua la parte centrale, vedete l'interno, vedete il retro, vedete tutto davanti, la cipiati con una linguetta, logo Nike Air qui in alto, linguetta in mesh, qua si vede, si vede il wings, il logo con le wings, non le wings, le wings, le ali, no le wings, il cartone animato, e qua vediamo l'outsole, midsole, midsole classica, e via, questo lo conoscete benissimo ragazzi, nulla da dire, un classicone che ha lanciato un po' il tutto. Svan Jordan 3, colorway è la Black Cement, anche qui iconica, abbiamo tutto il top in pelle molto morbida, tutto l'elephant print in punta, l'elephant print sul tallone, logo Nike Air qua dietro, il Jumpman sulla linguetta, grigia, vedete tutta la linguetta perforata fino in alto, lacci piatti, midsole iconica con l'air unit visibile, prima unit visibile su un Air Jordan, disegnata da Tinker Elf, ricordiamo, una scarpa fantastica, che ha convinto Jordan a rimanere con la Nike, la vedete l'outsole, anche qua è la classica, è diventata iconica negli anni, un classicone, bellissima, stupenda, guardate queste asole qua in metallo qui sulla punta, rosse, stupende, bellissime, bellissime, bellissime. Bene ragazzi, tempo fino a domenica, avete tempo fino a domenica prossima alle 15 ore e 3 del pomeriggio per poter votare quale scarpa preferite, votazione qua sotto nei commenti, vi ricordiamo di iscrivervi al canale Telegram perché abbiamo raggiunto, abbiamo superato i 1500 iscritti e faremo una raffle dove regaleremo una maglietta, per cui iscrivetevi e buona fortuna. Mi raccomando, tutti iscritti al canale Telegram, dovete iscrivervi anche al canale Instagram perché è importantissimo per noi, in Instagram pubblichiamo un sacco di foto, ripostiamo vostre foto, anche lì siamo più di 7300 mi sembra, comunque stiamo crescendo anche lì su, mi raccomando. Se non avete fatto subscribe al canale YouTube, vi preghiamo di farlo perché buttiamo fuori molti contenuti, vi rompiamo un po' i coglioncini con i coglioni, con quelle notifiche però, che linguaggio scurrile, che linguaggio scurrile, beh però impara magari se spegne il cellulare, eh? Non solo io, il tuo? Ah il mio forse, bene iscrivetevi qui sotto però ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e mi piace al video se vi è piaciuto, ottimo, ciao alla prossima, Champions Kicks, continua.